Buonasera e bentornati a Talk Sicilia, il programma di approfondimento che potete seguire sulle pagine di blog sicilia.it, sulla nostra pagina facebook e sul canale 14 del digitale terrestre il segnale di videoregione. Ancora una puntata di approfondimento dedicata alla storia della mafia e ancora una volta ho il piacere di dare il benvenuto a quello che ormai senza ritegno nell'abusare del suo tempo definisco un nostro super consulente esterno sui fatti criminali. Mafiologo, mafiologo. No, mafiologo sembra quasi antimafiologo come si potrebbe definire. Comunque benvenuto a Carmine Mancuso, già senatore della Repubblica ma soprattutto oggi impegnato sul fronte del ripristino della verità perché il presidente dell'associazione vittime dimenticate di mafia perché noi intanto ce lo dimentichiamo però la mafia ha fatto migliaia di vittime in Sicilia in questi 70 anni alla fine seconda guerra mondiale a oggi e molti di loro giacciono nell'oblio. La stragrande maggioranza. Un giorno ci dovremo ritornare su questo aspetto proprio sull'attività dell'associazione. Oggi però facciamo un bel salto indietro nel passato e arriviamo sulle spiagge della Sicilia orientale. Tra Licata e Gela. Tra Licata e Gela. Quindi siamo tra... 9 luglio, la notte del 9 luglio 43. L'estate e l'autunno del 43. Sbarcano gli alleati. Carmine oggi ci ha fatto un regalo incredibile, quello che in gergo giornalistico si potrebbe definire uno scoop. Probabilmente lo è. Facendo un lavoro di ricerca perché Carmine è anche un ricercatore, tra i documenti che erano stati un po' dimenticati poiché troppo voluminosi, nello studio del professor Vincenzo Prestigiacomo, uno studioso. Che stava scrivendo un libro su Raimondo Lanza di Trabbia. Esatto. Ci spieghi rapidamente che è Raimondo Lanza di Trabbia in una battuta così poi andiamo a questo scoop. Raimondo Lanza di Trabbia era uno dei più insigni, i nobili siciliani dell'epoca. Ante, dopoguerra e del dopoguerra. Ed è l'uomo, insomma, c'è una persona di vita per la sua novità l'età e che poi muore suicida, si dice. Modugno, come mi ricorda di chi dedica a Vecchio Frac. E' quello a cui Modugno dedicò la canzone Vecchio Frac per suo stile. Con un uomo dalle tradizioni nobili, anche sportivo, presidente del Palermo Calcio. E che fu tra l'altro anche il fondatore del MIS, Movimento Indipendenza Siciliano, che dopo guerra, prima... Sento la carta dell'indipendenza siciliana prima che ci fosse il riconoscimento dello Statuto Autonomista. Tra l'altro Raimondo Lanza di Trabbia, in un libro che è stato pubblicato a Feltrinelli, credo se non sbaglio, decine anni fa, non vengono nascoste anche le sue relazioni istituzionali o pare istituzionali con il mondo dell'intelligence anglo-britannica. Anglo-britannico, perfetto. Quindi ci ricolleghiamo alla puntata precedente quando abbiamo parlato appunto del ruolo della famiglia Kennedy di Salvo Lima nella prima guerra di mafia. Però questa volta arriviamo proprio sulle spiagge siciliane. Che cosa ci ha portato? il senatore Mancuso. Una lettera che ora io vi recito testualmente, perdonate la mia edizione perché non è delle migliori, però è il contenuto quello che conta. Quindi ora vi chiedo un po' di attenzione, un paio di minuti per leggere questa breve missiva che è datata a 23 ottobre 1943. Chi scrive è il barone Stefano Lamotta, anche lui tra i fondatori del movimento indipendentista siciliano, è anche lui, come dire, personaggio centrale nelle relazioni che tengono unite il mondo dell'aristocrazia siciliana al mondo dell'esercito dell'intelligence anglo-britannica in quel periodo che va dallo sbarco degli alleati fino alla nascita dell'autonomia siciliana. La lettera è inviata dalla Motta, che si firma con lo pseudonimo, con il nickname Vento di Sera, a Raimondo Lanzetrabia e recita così. Caro Raimondo, il generale Harold Rupert Alexander mi ha chiesto due notizie. Io sono stato vago. Piero, il generale Alexander chi è? Il generale Harold Rupert Alexander è un generale britannico che rispetto all'operazione ASCII, che è lo sbarco in Sicilia, quindi la missione militare per cacciare gli alleati che sbarcano in Sicilia, ha il comando delle forze armate anglo-statunitense in Sicilia. Molti dimenticano che il comando ASCII in Sicilia non era ammatrice stelle e strisce, ma era ammatrice sua maestà britannica. Quindi ricominciamo. Il generale Harold Rupert Alexander mi ha chiesto due notizie. Io sono stato vago. L'altro ieri ho incontrato Galvano, che mi ha raccontato di Cassibile e del suo amico generale Castellano. Anche qui breve parentesi per spiegare. Galvano dovrebbe essere Galvano Lanza di Trabbia, il fratello di Ramondo Lanza di Trabbia. Mentre il generale Castellano è il capo delle forze armate italiane che si arrende a Cassibile e firma l'ammestizio. L'8 settembre firma l'ammestizio. Anzi, lo firma prima, che viene reso noto l'8 settembre. La lettera, ricordo a tutti, è dalle 23 ottobre, quindi lo sbarco è già avvenuto da tre mesi. Il 9 luglio. Sono passati tre mesi. E la lettera di Lamotta prosegue così. Intanto a Terre Rosse ci sono diversi accampamenti e puoi immaginare quale confusione regna. Occorre urgentemente una tua presenza in città. Terre Rosse è l'attuale via Terra Santa, dove si erano accampati le forze armate anglo-britanniche. Oggi sto prendendo un sacco di papere, forse perché sono un po' terrorizzato dal contenuto di questa lettera. Occorre urgentemente una tua presenza in città. Gli alleati nell'operazione ASCII hanno coinvolto personaggi mafiosi come Salvatore Giuliano. E qui il cronista, appassionato di vicende di storia, fa un balzo alla sedia. Ripeto a tutti, gli alleati nell'operazione ASCII hanno coinvolto personaggi mafiosi come Salvatore Giuliano. Punto. A questo punto è doverosa una spiegazione a chi si segue. Primo c'è l'ulteriore conferma, laddove ce ne fosse bisogno, del coinvolgimento da parte delle forze militari anglo-americane di personaggi mafiosi. Ma il secondo dato che è veramente decisivo per definire questa lettera veramente uno scoop, è l'aggettivo che viene attribuito a Salvatore Giuliano, fino ad oggi conosciuto come bandito, perché stiamo parlando del bandito Giuliano. Che l'opera e le attività di Salvatore Giuliano fossero, come dire, in odore di mafiosità, se ne è sempre avuto il sospetto. Ma questo, diciamo, è un indizio abbastanza ragguardevole sulla corposità da dare a questo indizio, perché se veramente Salvatore Giuliano era un affiliato mafioso, cambia tutto, come dire, lo scenario storico da Portella della Ginestra in poi, sino alla morte di Salvatore Giuliano, anche lì un grande mistero. Il primo che fa, mentre le forze di polizia lo cercavano per barbara per terra nella zona di Montelepre d'intorno, Giuliano era imprendibile, la tritanza durò sette anni, la sua etopea banditesca. Il primo che lo ha intervista è un giornalista americano, Michael Stern, vicino alla CIA, che poi riceve da Giuliano una lettera dal recapitale al Presidente Truman, laddove Giuliano dimostra la sua... Allora Carmine, io direi, completiamo la lettura della lettera, e poi, la notizia dell'affiliazione mafiosa Salvatore Giuliano a Stefano Lamotta sarebbe stata data da Robert Capa, infatti la lettera prosegue così. Questa notizia riservata l'ha presa Robert Capa, il famoso giornalista che ha trasformato in icone tutti gli scatti dello sbarco a Cassibio. Premio Pulitzer. Premio Pulitzer. Così lo sbarco degli alleati è stato un gioco. Si dice che possa esserci anche un aiuto da parte di Rachi Luciano, prigioniero negli Stati Uniti. Affettuosi saluti, vento di sera. A questo punto possiamo rimuovere anche dalle immagini, e abbiamo sullo sfondo appunto del nostro studio il volto di Salvatore Giuliano. Cambia completamente però tutto quello che era fino ad oggi immaginabile come un sospetto, un indizio, si avvicina a una verità fattuale. Salvatore Giuliano mafioso vuol dire che c'è stata una eterodirezione da parte dei sistemi criminali anche di quel mondo autonomista che cercava di non far appartenere la Sicilia all'Italia e poi si accontentò, esiste anche un'ampia documentazione in questo, si accontentò dell'autonomia come privilegio, come la Val d'Aosta, il filo di Venezia Giulia, tutte le zone di confine. L'unica regione che riceve l'autonomia è la Sicilia perché chiaramente bisogna appunto acquetare, cercare di ormai eliminare questo indipendentismo, questo ribellismo che c'era in animo e bisogna recuperare la Sicilia alle regioni di confine perché mentre per le regioni di confine, il filo di Venezia Giulia, Val d'Aosta e così via, la motivazione c'era per evitare che sia gli slavi che i francesi potessero impadronirsi del territorio, in Sicilia non c'era problema perché potessero essere gli africani impadronirsi, ma invece l'operazione politica si eduperò la Sicilia a quelle altre regioni appunto per cercare sì che ormai gli angoli americani avessero il totale imperio della Sicilia e quindi poter meglio governare le operazioni che poi furono date in gestione alla mafia. Allora come dicevi tu qual è il fatto eclatante? Che Giuliano per carità diventa abbandito per caso perché casualmente facendo il contrabbando, facendo la borsa nera che a quel tempo c'era necessità di sopravvivenza, diventa abbandito per caso perché accidentalmente ammazza un carabiniere, non c'era la volontà di ammazzarlo, lui viene ferito, risponde al fuoco, mentre sta scappando purtroppo accidentalmente muore il carabiniere perché lo colpisce, lo colpisce al cuore e quindi insomma lo farebbe. Da quel momento in poi comincia la sua epopea, ma Giuliano non sarebbe potuto resistere neanche un giorno dalla ditante se non ci fosse stato appoggio alla mafia e la mafia che poi lo esalta, lo copre, lo cura, lo coccola, la mafia ne guadagna pure i vantaggi attraverso i segversi di persone, attraverso tutte quelle che erano le operazioni criminali banditesche di Giuliano per quanto concerne il vantaggio economico, ma è la mafia che lo protegge perché Giuliano è lo specchietto per le allodole perché attraverso Giuliano tutte le operazioni, diciamo. Ma diciamo è sempre lo stesso schema. Certo, certo. C'è bisogno comunque di un cattivo da additare come responsabile unico di tutte quelle cose che vengono fatte in nome di una ragione di Stato più o meno presunta? Solo che in questo contesto Giuliano compie delle vere e propria stragi, nella misura in cui gli omicidi che vengono attribuiti a Giuliano tra forze dell'ordine e il personaggio, insomma, di questo comune nella vita, sono circa 500. Quindi ci siamo parlato di qualcosa di eclatante. Però nell'immaginario collettivo c'è ancora, addirittura fino a qualche anno fa c'era la polemica che avrebbero voluto dedicare una strada a Salvatore Giuliano. Allora, diciamo quali sono pure... Giuliano viene poi idolatrato, attraverso gli americani, perché come dicevo prima... La copertina di Time, ci sono delle... Viene Michel Stern, insomma, lo viene... Anche Robert Capa, uno dei fotografi più famosi del mondo, che si dedica a questa vicenda. Perfettamente, Giuliano, insomma, poi c'è questo fatto che le donne, insomma, incominciano... C'è sempre l'attrazione per la perversione. Era anche un bel giovane. Diciamo che Giuliano poi chiaramente, insomma, va a quinta elementare, insomma, c'era che avesse fatti studi, insomma, classici... Quindi non aveva la struttura, diciamo, identitaria per poter fare, come dire, il grande ideologo del movimento dipendentista. Era intelligente, era molto... Però ti faccio una domanda a Brucia Pelle e poi torniamo veramente, come dire, al focus della puntata. Ma questo significa che l'intero movimento indipendentista era un'affiliazione, comunque una deviazione di sistemi criminali e mafiosi? O c'era chi nel movimento indipendentista aveva delle ragioni politiche genuine? Perché... Allora, come tutte le cose... Non si può fare di tutto nel buon fascio, no? Come tutte le cose nella vita, il movimento indipendentista aveva diverse componenti. diverse fazioni, come si vuol dire. Tutte, magari, possibilmente amalgamabili, ma in contrasto fra di loro. Anzitutto c'era la componente cosiddetta di sinistra, che era, insomma, relazionata al suo avvocato, all'avvocato di Salvatore Giuliano, l'avvocato Barbaro, il quale viene eletto per il deputato regionale con i voti di Salvatore Giuliano e quindi, insomma, crea una spaccatura all'interno del movimento indipendentista perché forma il movimento indipendentista repubblicano. Ciò significa, insomma, non legato alla monarchia, ma al tempo ancora c'era, insomma, il referendum in corso e quindi più, insomma, a quella che era la cultura di sinistra rappresentata a quel tempo dal servizio del movimento comunale. Quindi l'istanza indipendentista era una cosa vera, genuina. Poi c'era il professore Canepa di Catania, insomma, che era un idealista comunista, seguente di Grammci, che viene ucciso stranamente in un conflitto a fuoco a Randazzo con i carabinieri. Peraltro ricordo, forse dico una sciocchezza, ma sono abbastanza sicuro, ricordo di aver letto in un libro del professor Casarubea, che in quel periodo anche l'intelligenza sovietica sbarca in Sicilia. Certo, viene Vicischi, arriva Vicischi, arriva a Palermo e... Palermo è a Catania. Palermo è a Catania, era viceministro degli esteri, viceministro degli esteri e viene a contattare... Come ci ricorda Battiato la grazia innaturale di Vicischi, però forse si riferisce al... No, ma non credo che sia un Vicischi quello. No, rischia al cardinale Battiato. Sì, rischia al cardinale. Vicischi, anche lui, all'hotel delle Palme, va a presiedere una riunione, solo che gli angli americani gli fanno capire, togliete le scatole, perché qua, insomma, comandiamo noi... Buongassi allora la famosa battuta di Sciascia sotto le linee della Palma, in realtà un messaggio in codice per raccontarci che tutti gli eventi importanti che riguardano e determinano la storia della Sicilia avvengono in quel meraviglioso hotel del centro di Palermo. E vabbè, era uno degli hotel più famosi, insomma, già dai premi della Palermo felicissima, quindi è stato, insomma, come si vuol dire, teatro, non soltanto di incontri amorosi, ma anche di... Di grandi riunioni. Di grandi riunioni, cioè qui quella che abbiamo detto prima, insomma, del 57, quando arriva Gio Bonanno, Gio Bonanno è capo di... Torniamo dai a Giuliano, descrivici questo personaggio, continua a descriverci. Allora, Giuliano viene, chiaramente, insomma, era, ripeto, di bello aspetto, già questo era una componente molto importante. Il fatto che fosse così leggendario, impendibile, che fosse anche il cosiddetto bandito gentiluomo, che... Beh, uno che uccide 500 persone, tanto gentiluomo non doveva essere. No, però, insomma, nella trattazione giornalistica, insomma, apologetica dell'epoca, si vedeva un Giuliano che favoriva i deboli, che rubava i ricchi per dare... Una sorta di Robin Hood antelitteram. Un Robin Hood antelitteram. Il fatto, insomma, che una donna, una giornalista svedese, viene appositamente per conoscere la Ciliacus e che passa una settimana con Giuliano, insomma, e che Giuliano compone una poesia per ricordare questo incontro, Vinistri Dall'Alive a Lume Cori, insomma, una cosa molto graziosa, fatta, tutto sommato, fatta pure... Sai chi la scrisse, insomma, non credo che lui fosse così poetico. E quindi questo fatto che fosse, appunto, giovane, che avesse questa struttura leggendaria, viene costruito, insomma, attraverso questi organi di stampa. Abbiamo detto gli americani prima, Giuliano che lotta per la Sicilia, perché diventa colonnello del Levis. Cos'era Levis? Sì, perché il movimento indipendentista, a un certo punto, crea una costola militare. Perfetto. L'esercito volontario siciliano, quindi Giuliano prende i gradi di colonnello dell'esercito volontario, solo che al primo scontro a fuoco... Todo scabba ieri, se lo ci ricorderebbe, Giuliano immediatamente, appena integrato colonnello, todo scabba ieri. Al primo scontro a fuoco che c'ha, poi con un reparto dell'esercito scappano via, perché gli sparano la cannonata, insomma, i banditi scappano, chiaramente, non erano guerriglieri così, insomma, da trapazzo, non erano soltanto, insomma, dei combattenti. E poi il fatto pure è che, insomma, anche la triste storia di Giuliano, il quale muore abbastanza giovane, meno di trent'anni, era del 22, muore a 27 anni, che viene ulteriormente tradito. E dove muore Giuliano? Muore a Castelbetrano. Castelbetrano, incredibile come corsi e ricorsi storici, ci sarà un motivo. Ci sarà un motivo, certo, perché la provincia di Trapani, chiaramente, è una delle più altra di Zara, ma questa è massonica. Già c'era Ciccio Messina Denaro, era già vivo, era già… Era vivo, c'erano i rimi di Alcamo, che poi faranno successo con il narcotraffico negli Stati Uniti. Che sono sempre protetti negli Stati Uniti. Ecco, perché abbiamo detto prima, la mafia, insomma, che è come copertura, la mafia gli hanno dato le brille sciolte, fatevi per i capoli vostri, enricchitemi, però poi quando dovete fare le operazioni sotto copertura, insomma, la mafia, insomma, deve essere, indubbiamente, esamautilizzata. E quindi tutto questo contesto fa sì che… Peraltro, della morte di Giuliano, Tommaso Besozzi, con Issa, dirà, di certo c'è soltanto che è morto. L'unica cosa c'è. Allora, diciamo una cosa… Tutta una serie anche sul luogo del diritto, il sangue che scorre in posizione opposta rispetto… Allora, diciamo che Giuliano viene trovato morto nel cortile di casa Di Maria. Del suo avvocato. No, dell'avvocato Di Maria, quello in quale l'ospito… L'avvocato era barbaro, si chiamava barbaro, era di Montelepia pure. Solo che l'avvocato Di Maria, che io conobbi poi, poi magari in qualche altra puntata raccontiamo i miei incontri con l'avvocato di Maria, perché insomma, fu molto interessante. Era uno, tu l'hai scritto alla massoneria. L'avvocato Di Maria, insomma, l'ospita, mi raccontò l'ospita e obbieto ortocollo perché il mafioso di Castelvetrano, il capo mafia di Castelvetrano, tale Amarotta, mi disse che doveva ospitare lui e Pichotte. L'ospitò per sei mesi. Viene trovato in casa Di Maria, però a quanto pare Giuliano non viene ucciso a Castelvetrano, viene ucciso probabilmente a Monreale. Per quanto riguarda poi l'uccisore, qui si perdono le tracce. Una versione dice che è stato Pichotte, lui stesso prima lo dice e poi lo nega. Un'altra versione dice che fu un altro della banda Giuliano. Questa vicenda ricorda tanto della metodologia applicata nel caso Scarantino. La confusione che si fa. Confusione, finte piste, finte operazioni. Un'altra pista. La cosa però incredibile che sta emergendo in queste passate. Insomma, è vero, però scusami, il cervello è la Cina. Sono gli anglo-americani. Ma in tutta la storia delle mafie da qui. Perché poi la confusione è la disinformazione. Però diciamo, non abbiamo nessuna prova, perché quando io faccio il riferimento a Scarantino mi riferisco alla strage di Via Tamerio dove perde la vita Giuseppe Borsellino. E che ne sappiamo. Sulla strage Falcone, tracce di presenze americane con telefonate strane in Pensilvania ce ne sono. E che ne sappiamo se poi l'operazione fu fatta. Perché quando lo stesso... No, qua c'è, diciamo, però ci sono morti eccellenti. Allora, quando Spatuzza, che è il pentito che poi è quello che ha fatto chiarezza su Scarantino, parla, insomma, che lui era presente quando si comincia a imbottire di Trinolo la famosa città. Ci sono presenze strane che lui non conosceva, non mafiosi. Beh, chi sono questi personaggi? A chi fanno i riferimenti? Come noi siamo dietrologi? Potremmo anche pensare che probabilmente potrebbero essere... Sì, andiamoci col piede, col freno a mano tirato in questo caso. Siamo dietrologi, insomma, le supposizioni... Noi sappiamo, per certo, che dal racconto di Spatuzza c'è un misterioso personaggio all'interno del garage che viene imbottita di Trinolo la 126 che causerà la morte di Paolo Borsellino e degli uomini alla sua scuola. Personaggi che poi compaiono continuamente. E poi, insomma, c'è chi materialmente ha preso la borsa con l'agenda rossa. Perché poi i personaggi, insomma, uno è un magistrato che ha parlato di un capitano di Carabiniere. Solo che questi processi, per quanto, si concludono in questo modo, che non si trovano mai il responsabile, come chi non è stato il quale che ha fatto fare la perquisizione, chi è stato? La procura o i Carabinieri che non fecero la perquisizione nel copo di Rina. Beh, a suo punto la nebulosa è tale che serve a depistare tutto. Però il responsabile non pagano mai. A Napoli di me lo faccio in mammuina, però non faccio in mammuina così. E questo è il classico dei servizi segreti. Sì, diciamo, l'ombra dei depistaggi non può che avere una matrice, come dire, quasi eversiva, oltre che eversiva. A me una volta un capo della polizia disse, parlandoci in maniera molto chiara, in Italia reagiscono forze interne e forze esterne che hanno usato la mafia come copertura. Credo che sia abbastanza chiaro il concetto. E quindi possiamo fare tutta la geologia che vogliamo, però un filologico c'è. Un filologico c'è. Ritorniamo alla figura di Giuliano in questi ultimi minuti che ci porteranno alla conclusione di questa puntata. Ovviamente è un personaggio centrale anche della strage del primo maggio 1947, la strage di Portella della Ginestra. Ma là Giuliano è carnefice, vittima, complice. Perché chiaramente poi la storia ci parla di colpi di mitraglietta, sparati a altezza uomo, armi militari che spuntano, come dire... Allora, su questa vicenda, come hai detto tu poco fa, nominato il professore Casarubea, che è morto purtroppo, ha fatto forse, ha fatto abbastanza luce, dove dice che Giuliano era un comprimario. Giuliano fu mandato lì, sempre come specchietto per le allode. Con l'idea di sparare, fare spaventare, fare spaventare. Però, insomma, accanto a Giuliano, insomma, nelle posizioni vicine a quelle dove erano posizionate la banda Giuliano, che avrebbe avuto l'ordine di sparare in aria, c'erano servizi segreti americani, servizi inglesi, mafiosi. Ma probabilmente c'era anche qualcuno della banda Giuliano già infiltrato dai servizi segreti. C'era un infiltrato che... Ferreri, detto fra diavolo, che viene ucciso misteriosamente, insomma, dentro la caserma... Cioè, prima i carabinieri si appostano perché hanno notato l'impeccata che Ferreri sarebbe passato in un bel momento da quella strada. C'è l'ho conflitto a fuoco, ne ammazzano quattro, tra cui il padre di Ferreri lo portano in caserma, poi lui ci pare che aggredisce il capitano e il capitano, insomma, insomma... Anche qui sono molto misteri. C'è una cosa che fa in mente più su della storia, nel caso Pinelli mi ricorda questa storia. A questo punto, per dire, per completare l'opera, Giuliano pare che avesse compilato i memoriali. Me lo confermò lo stesso Avvocato di Maria. Perché non si è trovato più il memoriale di Giuliano? Perché Giuliano, praticamente, forse in quel memoriale voleva spiegare i fatti come erano andati e discolparsi dalle sue vere responsabilità. Un po' anche in questo caso facendo analogie con la storia, con i memoriali Aldo Moro che poi vengono... Indubbiamente. E allora concludiamo forse con una cosa che è importante. Quando Fisciotta, durante una fase del processo per la strage di Portella di Ginestre, laddove lui era imputato, a un certo punto dice quando ci sarà il processo per la morte di Salvatore Giuliano, per sapere chi realmente l'ha ucciso, io farò i nomi dei mandanti della strage e dirò cose che sono veramente, insomma, inconfessabili e che metterebbero un terremoto nello Stato italiano. E vi ricordo pure che in tutti questi periodi del proprio Giuliano, mafia, bandite e polizia, siamo stati un tutt'uno come padre, figli e spirito santo. Significato che, insomma, lo Stato era quello Stato. i pezzi di questo Stato, erano tante integrante. Si dovrebbe fare una pièce teatrale quel che è stato è stato, no? Esatto. Drammaticamente. Quindi mafia, bandite e polizia, siamo stati un tutt'uno come padre, figli e spirito santo. Allora, il tempo, cioè, qua dovremmo continuare per altre ore, sicuramente, a discutere questa cosa, però ringrazio ancora una volta Carmine Mancuso per questo contributo da Pelle d'Oca, perché oggi mi hai messo veramente i brividi con questo documento esclusivo che ci ha portato. Ti ringrazio della fiducia, ovviamente siamo pronti a dare la giusta replica a chi vorrà commentare questa nostra puntata. Ti ringrazio ancora, Carmine, e ringrazio i telespettatori che ci hanno sicuramente seguito con attenzione, visto, come dire, la delicatezza del tema, che riscrive un poco alcuni passaggi della storia della nostra terra. Abbiamo fatto storia, abbiamo fatto storia. Abbiamo fatto storia. Grazie e alla prossima puntata di Talk Sicilia. Grazie a tutti.